Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove in direzione Livorno, per un incidente, ci sono 6 km di coda tra la Strassigna e Montelupo-Fiorentino, contratto chiuso tra Ginestra Fiorentina e Montelupo. Sempre verso Livorno, coda in uscita alla Strassigna e un altro incidente si è verificato tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina. Per lavori di miglioramento della sicurezza, in direzione Firenze, 3 km di coda tra Empoli e Montelupo e rallentamenti tra Montelupo e Ginestra Fiorentina. Per le autostrade, Ina 1 in direzione Bologna, code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e Bivio con la variante di Valico. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!